Luca Bredò dal ciclocross alle strade bianche la stessa cosa secondo te ma secondo me secondo me no ci sono un 170 chilometri in più probabilmente però sì gli avversari sono forti da tutte due le parti quindi vedremo come va. Obiettivo? Obiettivo è battere questi 200 chilometri per adesso dopo quello che viene verrà. Emozionato o incuriosito? Molto incuriosito devo dire voglio vedere come vanno questi famosi diciamo che sento sempre in televisione e star lì vicino sarà bello.